salva a tutti signori in questo nuovo video vedremo cosa fare quando il tubo di scarico del lavello è completamente otturato dunque incomincio a fare un po di spazio sotto al lavello per poter lavorare meglio adesso sfido il tubo flessibile del sifone dal muro fatto questo vado a individuare la cassetta nella quale va a scaricare il lavello che stiamo studiando ok questa è la cassetta ed ora tolgo subito il coperchio per strurare il tubo di scarico utilizzo questa sonda molla che state vedendo che potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta al costo di 12 euro dunque notate l'estremità che dobbiamo inserire e fatta in un certo modo infatti guardate serve per frantumare il materiale che si è accumulato nel tempo dentro al tubo queste scaglie bianche che state vedendo sono le incrostazioni che devo togliere si formano per effetto della saponificazione degli ori dei grassi che si combinano con il detersivo che usciamo per lavare i piatti quindi queste non sono scaglie di calcare come spesso erroneamente dicono alcuni allora incomincio introduco all'interno del tubo da sgorgare la sonda e spingo con una certa forza sulla sonda ho messo un piccolo riferimento che mi fa capire quando sono arrivato nella cassettina che ho aperto prima ecco questo è il riferimento che vi dicevo prima in effetti ho messo un po di nastrisolante nero che mi fa capire quando poi sono arrivato con la sonda fino alla cassetta infatti ora andiamo dall'altro lato ecco questa è la cassetta dunque questa è la molla adesso recupero tutto il materiale che ho frantumato bene adesso vado sul tolavello e recupero di nuovo la molla e ripeto da capo la procedura la introduco di nuovo in modo da togliere fino all'ultimo residuo di materiale accumulato nel tubo e Grazie a tutti Ok, questo è il riferimento che vi ho detto prima, quindi mi fermo qua perché sono certo che sono arrivato nella cassetta Allora signori, con due passaggi della sonda possiamo anche fermarci perché sicuramente avremo tolto tutto il materiale accumulato Bene, adesso vorrei darvi un ultimo consiglio All'interno del tubo che abbiamo sgorgato ci sono tanti pezzettini di materiale bianco che non sono usciti Quindi io vi consiglio di aprire il rubinetto di lavello e fare uscire un po' d'acqua Però tenendo la cassettina aperta, ecco noi andiamo dall'altro lato della cassettina Man mano che esce l'acqua noi recuperiamo gli ultimi pezzettini di materiale bianco che abbiamo frantumato Infatti il flusso dell'acqua proveniente dal lavello sta portando via tutto il materiale che è rimasto nel tubo Quindi lo tolgo velocemente Allora signora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questo piccolo tutorial siamo arrivati alla fine, mi auguro che sia stato di vostro gradimento, mettete un mi piace se avete gradito o meglio ancora iscrivetevi al mio canale. Grazie mille e saluti da Napoli.